La distinzione, nonché il divieto di impiegazione reciproca, consente a Parmenide di ricavare una serie di attributi, di proprietà, attenenti all'essere vero o autentico. L'essere è ingenerato ed è imperituro, poiché se nascesse o perisse comporterebbe il non essere, circostanza questa, eventualità questa, che è esclusa per definizione. Inoltre l'essere è eterno perché se fosse immerso nel tempo implicherebbe un passato durante il quale non era e un futuro in cui non è ancora. Esso è invece un presente eterno a cui non compete né l'era né il sarà, ma soltanto l'è. Peraltro ancora l'essere è immobile e immutabile perché se si muovesse o mutasse implicherebbe di nuovo il non essere, poiché si troverebbe in una serie di stati o di situazioni in cui prima non si trovava. L'essere è unico e omogeneo perché se fosse molteplice o in sé differenziato implicherebbe degli intervalli di non essere, eventualità questa è esclusa per definizione. Inoltre l'essere è finito poiché, secondo la mentalità greca, la finitezza è sinonimo di compiutezza e perfezione. Pertanto l'essere in Parmenide è ontologicamente perfetto, ovvero in tutti i suoi aspetti si configura come una realtà necessaria, ossia come qualcosa che non può non essere o che non può essere diverso da com'è.